Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata. Abbiamo ospiti, un duo di fratelli, che ci presentano i fratelli Cecchi. Abbiamo a questo punto la domanda più semplice e più spontanea. Se doveste descrivere oggi chi sono i fratelli Cecchi, a chi vi ascolta, come li descrivereste? Allora io sono Gabriele Marco, lui è Samuele Luca. Siamo due fratelli che, diciamo, hanno sviluppato questa loro intesa artistica da sempre. L'hanno sviluppata fino a che non è diventata un vero e proprio progetto cantautorale. Noi siamo autori di canzoni che poi presentiamo, cantate da Samuele, che è la voce del duo. E come obiettivo abbiamo quello di promuovere il nostro genere, che è la musica, è la canzone d'autore. Quindi la nostra collaborazione è nata nella banda del paese, che dirigiamo insieme ormai da tanti anni. Poi è proseguita anche in arti diverse dalla musica. Per esempio nel cinema noi collaboriamo con la scuola di cinema Anna Magnani di Prato, dove io insegno scrittura cinematografica. Samuele scrive musica da film. E quindi tante volte ci siamo trovati a collaborare insieme in ambienti anche diversi. Ma questo progetto è proprio, diciamo, pensato fin dall'inizio come un progetto che abbiamo fatto proprio insieme, fin dall'origine, e appunto sono le nostre canzoni. E a questo punto parliamo dell'ultimo lavoro, ma necessariamente bisogna guardare più in là per poter fare questo disco? Questo è il nostro ultimo lavoro, che è uscito il 27 giugno, si intitola Guardando più in là. Sono dieci canzoni, sette delle quali arrangiate da Andrea Benassai, che è un'istituzione nel mondo della musica, un grandissimo professionista, un grandissimo arrangiatore, e altre tre sono presentate in pianoforte e voce, così come, diciamo, molto spesso sono state anche scritte. E quindi questo album, che si intitola Guardando più in là, perché guardare più in là è un po' il filo conduttore delle dieci tracce. Poi vado io, vado io, ho la delega per andare avanti, per spiegare. Lui parla, io canto. Giustamente. Cioè, no, è almeno ora, è il mio momento, è il mio momento. E poi il filo conduttore, perché si vuol dire che è importante guardare più in là, e ogni traccia, bene o male, ha questo tema. Cioè, un invito a guardare più in là, più in là delle apparenze, più in là anche delle logiche di mercato, che spingono spesso a vivere le nostre emozioni come se fossero cose usa e getta. Più in là anche delle difficoltà, dei piccoli e grandi fallimenti, anche personali, con la speranza, appunto, certa che dopo ogni tempesta rinascerà sempre il sole. Quindi è un album dove ci sono anche, descritte in musica, situazioni di dolore. Penso a Nuvole Viola, che parla appunto di violenza contro le donne. Ma sempre, in ogni traccia, c'è anche la speranza. La speranza di un futuro migliore, anche di una società migliore. Nella creazione dei vostri brani, la domanda è più semplice, più spontanea. Nascono prima le parole, nascono prima la musica, oppure nascono insieme? Questa è davvero una bella domanda questa, perché spesso si pensa che il metodo di lavoro, diciamo, di una persona sia uno e che applichi sempre quello. Invece noi, dipende proprio dalle canzoni, da come nasce la scintilla della canzone. Ci sono delle canzoni che sono nate prima come testi e poi sono state messe in musica. Altre sono nate prima come musica e il testo si è sposato dopo alla musica. Veramente hanno percorsi completamente diversi. Una costante è quella, però, della collaborazione in tutte le fasi tra i due fratelli. Anche quando il testo, per esempio, è mio, però poi magari la palla passa a lui per la musica. Faccio un esempio, come per esempio l'impero è crollato, è nato prima come musica. Poi la palla è passata a me, che ho scritto il testo, poi però è ritornata a lui. E io via via, con la pazienza, diciamo, quasi il cesello di uno scultore, tutti e due cerchiamo di limare pazientemente, costantemente, il prodotto, sia le parole che la musica, affinché possano sposarsi insieme, finché non siamo entrambi pienamente soddisfatti. Perché questa è la nostra regola, tra l'altro. Cioè, noi, quando pubblichiamo qualcosa, ogni decisione è presa all'unisono. Mai, se c'è uno dei due che ha qualche dubbio, non la prendiamo. Cioè, decidiamo di no. La cantoniamo. La cantoniamo, sì. Quanto influenza il vostro lavoro, scrive, l'altro suona, effettivamente poi nella realizzazione di un disco? Sì, ognuno, ovviamente, ha delle caratteristiche diverse e anche diverse competenze. Samuele è diplomato in canto moderno all'Accademia Lizard e quindi è la voce del gruppo. Io mi occupo prevalentemente dei testi, anche se alcuni sono scritti a mezzo. In questo album, per esempio, sono tutti miei, però a volte scriviamo insieme. Ecco, ognuno ha, diciamo, delle sue competenze. Samuele è anche un bravo polistrumentista, suona tantissimi strumenti, quindi, diciamo, segue più da vicino i lavori dell'arrangiamento, la cura del suono, anche quando come arrangiatore c'è un professionista enorme come Andrea Benassai, diciamo che tra i due chi si interfaccia di più con Andrea è lui, perché, ecco, ognuno di noi ha delle competenze e questa è anche una nostra fortuna, perché ci completiamo molto. Siamo veramente molto diversi come carattere e anche come nostre competenze e quindi questo ci aiuta a fidarci l'uno dell'altro e anche a sapere quali sono i nostri ambiti, ecco. In questo CD l'autore è più lui, sono quasi tutte sue le musiche, anche i testi, a parte tre, che in questo CD però in tante canzoni che presentiamo anche ai nostri concerti insomma sono scritte proprio a quattro mani, quindi ecco, non c'è una regola, ecco, diciamo su questo. E l'emozione che si prova salendo sul palco, nel momento in cui si apre la quarta platea, inizialmente c'è un pubblico che è silenzioso, quel caso a volte parla, quel silenzio, ma poi si emoziona, canta, partecipa e vi rimanda quell'energia. A voi che sentite, se ne provate. Bellissimo. Questo faccio, su questo deve rispondere per forza lui, amo stare sul palco e amo il rapporto con il pubblico, sì. E devo essere sincero, noi di solito nei nostri spettacoli abbiamo un pubblico che partecipa molto e questo ci fa sempre molto piacere e cerchiamo di coinvolgerlo, ovviamente, sono venuti sempre degli spettacoli molto belli e coinvolgenti, ecco, quindi ci piace molto questo rapporto, è molto importante, è molto importante. Io ho lo specifico compito di interpretare tutte le canzoni, il nostro progetto è molto simile a un teatro canzone, io quando canto una canzone non canto e basta, devo interpretare proprio una parte e posso interpretare la parte di un'attrice, di una donna che subisce violenza e cambio continuamente, ogni canzone io sono una persona diversa, quindi il mio compito è oltre a quello di cantare è anche quello di proprio di interpretare. Ecco, è importante, la risposta del pubblico è molto importante. Ed è un pubblico da teatro, anche quando ci esibiamo all'aperto nei nostri concerti estivi, è un pubblico predisposto all'ascolto, di solito anche abituato ecco, ad ascoltare, a fruire in modo critico, nel senso più nobile del termine lo spettacolo. e questo per noi è importante, presentiamo certo le nostre canzoni certo non sarebbero adatte per fare da sottofondo a una sagra, a una festa, ci vogliono anche quei momenti, con questo non vogliamo dare un giudizio certo negativo per quei momenti ricreativi, però onestamente le nostre canzoni non è il nostro progetto, sono adatte per un pubblico che di ascolto. Un pubblico che ascolta. Sì, e abbiamo la fortuna di avere un pubblico che ci ascolta fin proprio dai primi passi che ci ha seguito, che è cresciuto strada facendo come la nostra squadra di collaboratori tra l'altro e è un progetto che sta crescendo partendo dal basso e questo è molto emozionante sia per noi che per le persone che ci stanno supportando. E invece voi l'emozione le sensazioni che si provano quando si scende al palco che ci sono le persone che vi incontrano vi fanno domande vi fanno complimenti ma a volte capita che non hanno la voglia cioè non hanno la capacità di farvi la domanda perché o sono emozionati oppure sono troppo carichi nel farvi la domanda che voi forse anticipate la risposta e li rendete ancora più felici nonostante non abbia fatto una domanda specifica. Mi capita? Sì, quello che appunto stai dicendo fa parte di un rapporto di empatia che si crea tra l'artista e il suo pubblico e nasce soltanto se quello secondo me è un mio punto di vista ma nasce soltanto se l'artista è autentico se l'artista è se stesso e non è un personaggio noi siamo fratelli cecchi siamo gli stessi fratelli cecchi che dirigono una banda siamo gli stessi fratelli cecchi che lavorano nel settore educativo avendo mille mansioni siamo gli stessi fratelli cecchi che presentano questo progetto e quando viene il pubblico trova noi non trova dei personaggi vestiti in modo strano o vestiti ad hoc vestiti in modo furbo o che si atteggiano in modo furbo sul palco trovano noi due e questa autenticità fa parte di quella resistenza culturale alla mentalità comune e alle logiche del mercato discografico attuale che noi ci vantiamo di portare avanti e invece mi hanno chiesto qualche cartografo qualche selfie la prima prima cosa la reazione oltre che a portare il pennarello perché molti ragazzi non hanno il pennarello ma qual è stata la prima sensazione ma in cui vi si è presentato il primo autografo o il primo selfie che vi hanno fatto beh la prima volta fu quando presentammo il primo dei nostri cd e semplicemente più che l'autografo appunto era una dedica una dedica che abbiamo fatto al nostro al nostro pubblico più fedele e ai nostri sostenitori più fedeli personalmente ed è bello quando quello che uno scrive nella dedica poi è vero ed è autentico e si torna al discorso di prima ogni volta che abbiamo scritto con affetto l'affetto è vero sono rapporti veri diciamo che ormai i fratelli cecchi il loro pubblico rappresentano quasi una loro comunità che sta crescendo ci sono artisti a cui vi siete ispirati o comunque vi hanno fatto anche crescere artisticamente beh sicuramente il canto autorato italiano quindi De Andrè Fossati Ciampi Enco Pecchioni poi si può dire a livello internazionale di chalsoni francesi quindi cito Brel Asnabur Leo Ferré e brasiliani come Jobim Vinicius De Moraes e poi sempre guardando in Italia il tipo di spettacoli che facciamo possono richiamare un po' anche qualcosa di Gaber Giannacci soprattutto il primo quando si faccia anche una cosa più ironica e questi vi direi questi anche per l'uso del vernacolo anche per l'uso del vernacolo per esempio mi vengono a mente Gaber Giannacci e Andrè che usavano il vernacolo proprio per rendere proprio anche l'autenticità a queste canzoni questi personaggi venivano proprio in modo più autentico è un uso noi ci vantiamo di questo uso del vernacolo toscano in modo non volgare non conosco neanche il storico ma per raccontare in modo più autentico delle storie proprio come Giannacci usava il milanese per esempio o come di Andrea ha usato il genovese ecco l'uso della lingua locale per rendere più autentica una storia e non così solo per provocare magari la risata facile secondo voi come è cambiata la musica oltre che adesso sta ritornando in auge l'LP il CD le musica a 7 anche in america fanno le musica a 7 però passare da una musica che aveva un certo valore a essere frente i ragazzi oggi utilizzano il telefonino Spotify YouTube dove la musica effettivamente ha perso un po' di quel valore importanza cantazoriale della valore musicale quando è cambiato e cosa è cambiato a questo mondo e cosa potrà migliorare o peggiorare in questo caso quello che è cambiato è un'arma a doppio taglio la possibilità che hanno oggi tutti di produrre musica e di proporre qualcosa a un pubblico e dall'altra parte questa questo cambiamento ha provocato nel pubblico la consapevolezza di avere tutto a disposizione e quindi non una scelta un tempo quando c'era il 33 giri dovevamo scegliere il nostro 33 giri dell'estate forse con qualche amico ci mettevamo d'accordo ognuno prendeva un 33 giri diverso e poi ci facevamo le cassette ma era un numero limitato e dovevamo compiere una scelta ecco e questa era la selezione e quindi un'abitudine già critica già in fase di scelta del proprio cantante c'era l'obbligo di fare una scelta era una necessità oggi no oggi troviamo tutto lì la musica digitale ha ampliato gli orizzonti ma ha anche eliminato questa fase di discernimento critico iniziale e quindi questo può essere un bene o un male è uno strumento dipende come si usa io la vedo così e secondo me i generi musicali servono tutti perché ognuno ha una sua funzione l'importante ed è questo che noi ribadiamo ogni volta è avere ben presente che c'è una differenza non tutte le canzoni sono canzoni d'autore e quindi noi quello che cerchiamo di fare diciamo oltre a produrre musica è anche diffondere una cultura che possa aiutare il pubblico a riconoscere criticamente il valore di quello che sta ascoltando se è una canzone commerciale non c'è niente di male però è una canzone commerciale se è una canzone d'autore ha altre ambizioni e quindi è una canzone d'autore ecco e mi avete detto appunto che uno scrive musica per il cinema l'altro scrive per il cinema ma allora come è cambiato scrivere musica per il cinema visto che il cinema in realtà si sta trasferendo dal cinema struttura alle piattaforme i tempi sono cambiati i modi sono cambiati abbiamo ascoltato tanti doppiatori hanno raccontato la loro visione di questo cinema però a livello musicale e soprattutto a livello di scrittura come è cambiato questo cinema secondo voi il cinema è vero che sta cambiando è sempre cambiato come tutte le arti è in movimento e quindi è in evoluzione e questa però è vero che c'è stata un'evoluzione recente che ha profondamente modificato il cinema e anche soprattutto la fruizione del cinema e anche la produzione del cinema noi pensiamo anche in quel caso alla tecnica del cinema è questo che cerchiamo di insegnare anche ai nostri allievi dei laboratori che facciamo anche nella scuola di cinema Anna Magnani e insegniamo a comunicare un messaggio con l'arte cinematografica le basi dell'arte cinematografica non cambiano cioè le regole quello che cambia è un po' il circo che c'è intorno ma secondo me è sbagliato farsi influenzare dai grossi dai massimi sistemi del cinema noi secondo me dobbiamo capire che l'arte cinematografica è come l'arte musicale è come l'arte teatrale partire dal basso imparare bene il mestiere per produrre cose che abbiano un messaggio anche culturale e poi da lì ecco salire e quindi aiutare le persone anche ad avere un senso critico anche in quel caso del cinema cosa è cambiato nella musica più che secondo me con le piattaforme è cambiato con gli strumenti a livello di strumentazione un tempo c'era molta più divisione tra chi componeva chi eseguiva le musiche e poi magari chi curava il mixing mastering eccetera oggi per la musica da film molto spesso secondo me il soggetto diciamo che cura le musiche deve un po' seguire tutte le fasi e deve essere in grado di seguire tutte le fasi secondo me è questa la cosa che è cambiata che è cambiata di più ovviamente soprattutto nelle produzioni più low budget quindi nelle produzioni indipendenti chiaramente il rapporto con il regista ti permette anche di ottenere ciò che effettivamente in quel momento che l'immagine può rappresentare con la musica la stessa scena esatto esatto la musica in relazione alle immagini ma è anche il cinema che ha modificato la musica e ha modificato l'immaginario creato dall'arte cinematografica ha modificato il modo di scrivere soprattutto i testi e non parlo solo della musica non parlo solo delle canzoni infatti pensare all'influsso che ha avuto il cinema nella narrativa il modo che con cui scrivono i romanzieri di oggi è praticamente risente tantissimo della tecnica cinematografica le arti si influenzano è sempre stato così e forse questo è un po' un limite di tutti pensare che ogni arte sia un po' un gruppo a sé di persone di metodi eccetera lo spirito del tempo di ogni tempo permea tutte le arti e poi si influenzano tra di loro e quindi anche la musica è stata influenzata del cinema intanto i ragazzi che vengono a lezioni alla scuola quali le domande più frequenti che vi pongono o quelle che vi hanno lasciato comunque in difficoltà a rispondere perché effettivamente hanno fatto una domanda o troppo complessa oppure una domanda troppo semplice che in realtà poi la risposta non c'è è stata comunque abbastanza complessa nel suo discorso io penso è la domanda più difficile che attualmente ha veramente non non ha risposta probabilmente è come si fa a a distribuire un prodotto in modo efficace e come si fa a vedere un prodotto cinematografico low budget per esempio e vederlo distribuito come si deve a parte la distribuzione nei festival nei vari festival ecco questa è una risposta che molto probabilmente se non c'è un aiuto da da parte delle istituzioni volto ad aiutare quel tipo di produzione difficilmente ecco molto spesso ci sono ottimi lavori bellissimi lavori cinematografici che restano poco diffusi ecco questa è la cosa più difficile da rispondere perché ma più che difficile è doloroso rispondere e togliere delle illusioni attualmente questa mi sembra questa la cosa poi nelle domande io come allievi alla scuola ho allievi adulti quindi a volte le domande sono molto complesse molto belle soprattutto sul dialogo tra cinema e letteratura tra cinema e narrativa e sono molto stimolanti più che difficili sono è bello rispondere a domande del genere ecco bello e confrontarsi anche molto bello mentre le domande diciamo più difficili sono quelle forse dei bambini nei laboratori quando facciamo laboratori per ragazzi che con appunto la sensibilità dei bambini appunto fanno le domande più disparate ecco ritornando sull'ultimo disco a questo punto citando i due brani chi è il regista ma soprattutto chi è l'operatore di ripresa lo dico io allora quelle tre canzoni fanno parte di un gruppo di canzoni che noi di una serie di canzoni che noi abbiamo che io ho scritto e che lui interpreta sui mestieri del cinema cioè una canzone per ogni mestiere noi ci siamo immaginati una una troupe cinematografica con la fantasia e ognuno di loro per il loro tipo di lavoro sul set ha un angolo di osservazione diversa della realtà un po' come tutti noi abbiamo una visuale diversa della realtà ecco e quindi il regista sono tutti quei registi improvvisati nessuno in particolare nessuno in particolare per carità diciamo che sono tutti quei registi improvvisati che fanno i registi non tanto per comunicare un messaggio non dopo un percorso di formazione che li ha portati a sapere davvero dirigere un set ma soltanto per la vanagloria di farsi un self sulla sedia con scritto regista e ce ne sono tanti ora perché essendo il cinema molto di moda spuntano come funghi persone appunto che si improvvisano mestieranti del cinema senza averne le basi l'operatore di ripresa in verità siamo un po' tutti noi secondo me tutti noi che facciamo cinema e usiamo l'attrezzatura la strumentazione la tecnica del cinema e che poi quando viviamo tendiamo a vedere la nostra vita le nostre esperienze proprio filtrate da questa da questa tecnica cinematografica ed è stata una canzone che è un po' una sfida insomma raccontare una storia d'amore con la strumentazione con l'uso di una terminologia che si rifà proprio alla strumentazione alla tecnica cinematografica i grandangoli teleobiettivo il piano sequenza il piano americano ecco raccontare una storia d'amore con quella terminologia lì è un operatore di ripresa quindi come vede la realtà attraverso la macchina da presa ecco vede anche la sua realtà attraverso la la tecnica cinematografica allora andando ricordiamoci i vostri indirizzi dove potervi raggiungere allora noi siamo sui social siamo ovunque siamo sia su facebook che su instagram il nostro sito è www.fratelliscecchi.com e poi il resto trovate il cd il cd fisio ovviamente ai concerti oppure si trova su tutte le piattaforme digitali store spotify apple music amazon music itunes eccetera bene allora dandoci i fatti saluti finali sì facciamo i saluti finali a tutti grazie per questa occasione di presentarci di presentare il nostro il nostro lavoro vediamo appuntamente i prossimi concerti che saranno appunto concerti centrati sulle nostre canzoni in cui saremo accompagnati da Francesca Fedi Perilli una bravissima violoncellista che è un vero talento in Toscana eh sì Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro